Allora provo a dare degli elementi che secondo me sono stati rilevanti nell'ultima settimana, due settimane, per capire la fase un po' in cui siamo, cosa che non è banale per l'insieme di crisi che si stanno rendendo manifeste. Il dato da cui volevo partire, anche se poi naturalmente stiamo parlando di più dell'Italia e del contesto europeo, però il dato da cui volevo partire in realtà è il dato sul crollo del costo del petrolio di cui abbiamo sentito parlare qualche giorno fa. Perché per la prima volta nella storia, appunto, abbiamo visto che il prezzo del petrolio era crollato ed era crollato addirittura a meno 37 dollari al barile, cosa che storicamente non è mai successa. Se noi prendiamo i prezzi, diciamo, come indicatori di processi storici, quindi di processi materiali, vediamo che di fatto quello che stava succedendo è che i produttori stavano pagando per che venisse comprato il petrolio, cioè il contrario di quello che avviene normalmente. Questo anche per i costi di stoccaggio e per i costi, appunto, per liberarsi di fatto delle scorte. Facendo un passo indietro ancora, che cosa ci dice questa cosa? Ci dice che il ritmo di produzione e vendita su cui di solito l'economia lavora e su cui ci siamo abituati, d'un tratto era venuto meno. Quindi erano venuti meno, appunto, i compratori, gli acquirenti, come simbolo, però, di un'economia che d'un tratto si era fermata. In questo senso stiamo parlando di un processo, appunto, che non è mai accaduto storicamente e che ci dà anche un po' l'idea di quanto stiamo vivendo una fase difficile da decifrare perché non è mai accaduta prima. Il fermo della produzione lo possiamo anche, come dire, facilmente rendere più vivo di così. Abbiamo preso, appunto, il pezzo di petrolio come simbolico di un fermo, ma possiamo anche guardare dei dati attorno al mondo, in Europa, negli Stati Uniti, che ci danno il senso di che cosa vuol dire un rallentamento, quasi uno stop dei processi produttivi. E la differenza tra l'Europa e gli Stati Uniti in questo caso, in termini di tutele del lavoro, anche se noi, penso in Italia, non è che, voglio dire, ne abbiamo così tante, però anche qui parto dagli Stati Uniti e poi rientro piano piano perché negli Stati Uniti quello che abbiamo visto è che nel giro di tre settimane, più o meno, il numero dei disoccupati è salito da prima, d'un tratto, diciamo, le richieste di sussidio di disoccupazione sono state fatte in una settimana da 3,3 circa milioni di persone, e la settimana successiva erano diventati 6, nel giro di circa tre settimane sono diventati 22 milioni di persone che hanno fatto domanda di disoccupazione. Questo, anche questo, dobbiamo prenderlo come un sintomo di fatto di un mercato di lavoro completamente precario, senza alcuna tutela, in cui da un giorno all'altro sei a casa, quindi se scendono i profitti, se calano i profitti, sei a casa. Questo uso gli Stati Uniti perché ovviamente ci danno più la misura immediata di quello che sta accadendo. La stessa cosa, una cosa simile in potenza, capiterà in Italia e in Europa, nel senso che per ora comunque c'è stato un cuscinetto di cassa integrazioni, non dappertutto, come sappiamo, di cassa integrazioni per i lavoratori dipendenti, e però appunto in altri paesi, soprattutto i lavoratori indipendenti, i lavoratori autonomi, i lavoratori freelance, per non parlare di chi appunto stava un po' a galleggiava tra un'economia formale e un'economia informale, si sono trovati invece senza alcuna tutela. Faccio tutta questa lunga premessa per dire che, per provare a quadrare la situazione e a mettere la questione europea dentro il contesto in cui ci troviamo, ed è un contesto di disoccupazione che aumenta potenzialmente in modo letteralmente esponenziale. Dico questo anche, vorrei incrociare questo, visto che insomma stiamo provando tutti a fare un quadro di riferimento, e le crisi si accavallano, la crisi appunto economica, la crisi sanitaria, la crisi potenzialmente politica, e appunto non sarebbe sufficiente dire appunto guardare i tassi di disoccupazione e la loro crescita se non li mettessimo insieme a quelle che sono le previsioni epidemiologiche. Qui ovviamente anche qui lavoriamo nell'incertezza, sono tutti spunti che do di discussione che non sono per nulla esaustivi, però se guardiamo le previsioni epidemiologiche, a me le analisi che convincono di più sono quelle che guardano il Covid, in parallelo a quello che è accaduto con la spagnola nel 1918, in termini di andamento, perché la spagnola pure era iniziata in primavera, aveva avuto una prima ondata, moderata in modo relativo, quindi potremmo dire che questa è moderata anche se sappiamo che non l'è stata fatta in termini di decessi, di contagi, e poi però il vero problema era stato nell'autunno successivo, e lì la curva era aumentata esponenzialmente. Se pensiamo al rallentamento della produzione, al crollo assoluto della domanda e a ciò che in potenza potrebbe avvenire in autunno, dobbiamo pensare che appunto le chiusure, le bancarotte, le piccole imprese che chiudono aumenteranno molto di più, diciamo, nei prossimi mesi, in particolare in autunno. E allora vengo all'Europa. Ma che cosa è successo in Europa? O che cosa sta succedendo? Forse, non dico, lo dico in tre parole, perché alla fine un pochino abbiamo visto che non è stata presa una decisione definitiva, abbiamo visto che appunto c'è un passaggio di palla, diciamo, dal Consiglio alla Commissione Europea, abbiamo visto che tutto il ragionamento convincente, che Conte aveva fatto sugli euro bond è stato gradualmente archiviato, abbiamo visto una proposta spagnola di un recovery fund che è ancora sul tavolo, abbiamo visto anche tuttavia che questa proposta è stata sostanzialmente rivista dalla Germania e che quindi i temi ora, diciamo, in discussione sono questo recovery fund, in che modo, voglio dire, sarebbe finanziato, per quale entità di finanziamento, come questi finanziamenti andrebbero agli Stati e quando. Se mettiamo questa incertezza dentro appunto la situazione italiana, più ancora che degli altri paesi europei, è chiaro che giustamente ci sarebbe bisogno di uno sblocco di fondi prima possibile, possibile idealmente in autunno per far fronte a tutte le esigenze, non solo a quelle delle imprese, ovviamente, ma appunto alle esigenze di cassa integrazione, all'esigenza di radito di cittadinanza, all'esigenza di tutela, all'esigenza di un piano di assunzioni nelle scuole, insomma, tutte le crisi che vediamo potrebbero essere tamponate molto facilmente, anche, voglio dire, se ci fosse la disponibilità politica a un piano di assunzioni, a una tutela attraverso un reddito di cittadinanza per tutti, a cassa integrazione per chi è nella condizione di essere un lavoratore dipendente, eccetera. In potenza tutto ciò non accadrà, o accadrà molto poco, in particolare perché, diciamo, il tema del finanziamento di questo recovery fund sembra protendere, al di là del Fondo Sure per le case integrazioni, sembra sarà appunto basato su prestiti più che su grants. Il che impotenza ci fa sempre pensare a una crisi del debito, peraltro non solo per l'Italia, insomma, ci sono, vedevo ieri che ci sono 100 paesi che hanno fatto richiesta al Fondo Monetario Internazionale di prestiti. Questo ci dice anche, se ho un altro secondo, che tutto quello che sta accadendo, appunto per quello citavo la questione del petrolio, è un po' indicativo di un'economia che ha sempre vissuto negli ultimi 40 anni su un modello just in time. Salari bassi, rapporti di lavoro precari, lavoratori presi e mollati a seconda delle esigenze del mercato. È evidente che adesso il mercato non ha bisogno che quindi tende a mollare. Questa è la struttura della nostra economia. Qui, appunto, o c'è un'illuminazione sulla strada di Damasco, cosa della quale io dubito fortemente, in termini di, appunto, tutele, o c'è un'ondata gigantesca di scioperi e di, appunto, e di proteste fortissime a livello sociale, cosa che mi sembra quasi inevitabile, diciamo, nel medio-lungo periodo, è chiaro che stiamo guardando, in buona sostanza, che era quello che volevo dire, secondo me, all'accavallarsi di tre crisi, una crisi sanitaria, una crisi economica, potenzialmente del debito sovrano. In Europa, che adesso tocca molto l'Italia, infatti abbiamo visto che ieri sera, per esempio, Standards and Poor's non ha downgraded il debito italiano, a livello spazzatura, come era avvenuto per la Grecia, però sappiamo che stanno tutti guardando con molta attenzione il debito italiano, perché il debito pubblico è molto elevato, perché ha avuto un forte impatto nell'emergenza sanitaria e perché tutti sappiamo come è fatta l'Europa, quindi siamo a fortissimo rischio di speculazione. E quindi, appunto, la difficoltà dei mesi successivi, secondo me, è di tenere un pochino accese le rivendicazioni, da un lato, di diritto di cittadinanza e di tutele sul lavoro, dall'altro l'attenzione sulla crisi sanitaria, che è primaria, cioè che va presa molto sul serio. Nel senso che va, secondo me, in modo molto femminista, messa al centro la cura, messa al centro la cura anche nella distanza fisica, va pensato un modo di riarticolare le lotte dentro le precauzioni necessarie e dentro un concetto di cura che va ricalibrato a protezione degli anziani, a protezione dei più fragili, a protezione dei migranti che stanno comunque venendo importati in un modo estremamente violento per lavorare in condizioni di assoluta segregazione nei settori essenziali, anzitutto nell'agricoltura, e ricalibrare appunto in termini femministi che cosa significa lottare in questa fase. Sarà un po' la sfida dei mesi a venire appunto per tutelare il lavoro, per tutelare i diritti del lavoro, per tutelare, non dico solo le produzioni essenziali, ma anche le catene alimentari, banalmente, per rivendicare un reddito di cittadinanza, per impedire una crisi politica che mandi via, che ci porti di un tratto con un governo di estrema destra. L'ultima cosa che dico al volo è che in questo senso possiamo usare la crisi, cioè la crisi ha mostrato anche che il valore della vita, il valore del lavoro così basso, è anche sintomo di un valore della vita che viene considerato molto basso per Confindustria, diciamo, per tutti i capitali privati e questo va usato anche per delegittimarli, va usato per ribadire un altro ordine di valori e questo, diciamo, è uno svelamento che politicamente è prezioso e politicamente possiamo usare.